fallo i danni di Krunic, poi contatto con Gaggia, attenzione Rissa, è Rissa è partito tutto da un contatto tra Gaggia e Krunic, poi sono arrivati tutti gli altri adesso Alderete se le promette con Giroud Gabriel Paulista qui che si adopera per riportare la tranquillità l'arbitro nel frattempo ha estratto un cartellino giallo, direi per Radekrunic ancora campanello di giocatori intorno a Gaggia a Gaggia grazie grazie grazie